Volevo chiamare il nostro compagno Caio qui con noi e fare una cosa esagerata perché per noi è bellissimo essere qui per anticipare un gruppo che seguirà vi consiglio di ascoltare e ringraziare di essere qui essere un mano vicino a noi e questa è una roba che non si dovrebbe mai fare ma noi lo facciamo perché è proprio un tributo nostro bravo, grazie si ti tre hai il testo? non facciamo il testo pronti? uno, due, tre, quattro non facciamo il testo è una questione di qualità è una questione di qualità una formalità non ricordo più bene una formalità questa è una questione di qualità 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 una questione di qualità è 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 una questione di qualità O una formalità, non ricordo più bene Una formalità Come decidere di tagliarsi i capelli, di eliminare il caffè di sigaretta E di farla finita con qualcuno o qualcosa Una formalità Una formalità Una formalità Una questione di qualità Io sto bene, io sto male Io sto bene, io sto male Io sto bene, io sto male O una formalità Una formalità Una formalità Una formalità Una formalità Sommo male, sommo male, sommo male